Ha commesso il delitto con una pistola che gli ho dato io. Ha preso tutte le precauzioni, compresa naturalmente quella di usare i guanti. Ma quando mi ha restituito l'arma, non li aveva. Guarda, eccola qui, è questa. Ci sono tutte le sue impronte. Hai pensato proprio a tutto? Sì, assolutamente a tutto. Pronto? Per favore, centralino, mi chiami la polizia, immediatamente. Un momento. Centrale di polizia. Polizia? Dicca. Sono la contessa de Moncada. Un uomo ha ucciso mio marito. Sì, sì, qui nella nostra villa. Mandate subito qualcuno, sono sola e credo che l'assassino sia ancora qui attorno. Vi prego, fate presto. Si calmi, signora. Veniamo immediatamente.